ciao book dipendenti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono milena e oggi vi faccio il book haul di dicembre ho tutti i libri disseminati sul letto e mettetevi comodi perché ci sono ben 23 libri di cui soprattutto regali e autoregali di natale quindi direi di partire dai miei autoregali poi vi faccio vedere i regali di natale e infine i libri che ho ricevuto dalle case editrici i miei autoregali del mese di dicembre sono ben quattro il primo è il libro che era presente nella bookish box della rebel box di dicembre si chiama silent night all'interno ha vite e avventure di babbo natale di baum poi c'è un racconto di doyle sul con protagonista sherlock holmes ambientato a natale poi c'è ovviamente il canto di natale di dickens a cui è dedicata anche la cover che è stupenda secondo me e infine c'è della halcott mi sa qualche racconto non mi ricordo no un racconto solo che dovrebbe essere la scelta di kate si vi faccio vedere l'interno in pratica sulle pagine ai lati ci sono le lucette di natale e poi c'è anche qualche illustrazione se non erro proprio a livello del racconto di doyle ecco sì tipo questa è un volume bellissimo per me è stato più o meno inutile perché i racconti di doyle ce li ho già tutti quello di dell'alcott ce l'avevo già in un altro libro del canto di natale ho milioni di edizioni e vite e avventure di babbo natale era uno dei regali che avevo ricevuto quindi diciamo che l'edizione è stupenda e infatti io l'adoro per la cover perché avere un'altra cover del canto di natale va sempre bene però alla fine il contenuto per me è stato praticamente inutile infatti se vi ricordate bene anche nell'unboxing della box che vi lascio qui avevo detto che avevo preferito la box di novembre quello era il mio auto regalo di natale nel senso la bookish box poi c'è questo auto regalo che non mi ricordo perché cosa l'ho fatto non mi ricordo proprio è il secondo volume di the giver la rivincita io sto amando queste edizioni della mondadori spero vivamente che facciano anche il terzo il quarto in questa edizione perché se dovessero abbandonare io veramente impazzisco ho preso anche il primo che è qui non si vede mi sa o forse non si vede perché di là e che però avevo già letto in un'altra edizione e devo ancora continuare è uno degli obiettivi di quest'anno e finire questa quadrilogia auto regalo per l'esame che ho fatto è passato a dicembre questo qui l'altra metà delle fiabe dell'hab editore che come sapete è una casa editrice che adoro adesso ve lo faccio vedere un po più da vicino ci sono un sacco di immagini o comunque di rigori nelle varie come si chiamano insomma nelle varie nei vari frontespizzi delle fiabe ed è stupendo cioè io lo adoro e praticamente come fiabe ci sono la bella addormentata il gatto con gli stivali cenerentola che è la prima metà delle fiabe e poi la seconda metà delle fiabe sole lunettalia cagliuso che non conosco e la gatta cenerentola che nemmeno conosco invece tutte le altre le conosco già però sono curiosa di vedere come sono raccontate in questo volume perché sicuramente sarà macabro quindi dovrebbero essere le versioni originali che io già conosco però sono curiosa di leggerlo comunque ultimo auto regalo per la fine del tirocinio è stato questo qui il sesto volume di The Promise Neverland non vi faccio vedere l'interno perché potrebbe essere spoiler come sapete io sono arrivata al quinto volume in lettura e quindi adesso è il sesto e dovrò leggerlo un altro degli obiettivi di quest'anno è finire tutto il manga sono 20 volumi quindi ne dovrei leggere 16 non lo so vedremo se ce la farò passiamo adesso ai regali di Natale che ho ricevuto per cui ovviamente sono immensamente grata perché sono anche quelli più grandi cioè sono nel senso la fetta di libri più grande che vi faccio vedere oggi il primo in realtà non è un regalo di Natale perché mia mamma mi aveva dato dei soldi per i morti perché come sapete da me si fa la calza ve l'avevo già raccontato un po' come la Befana però ora sono adulta quindi invece della calza e dei dolci mamma mi regala dei soldi con cui io poi compro dei libri il primo libro che ho preso è questo qui che è un ricordo di Verona perché l'ho preso proprio alla Mondadori di Verona ed è adorabile, ho scoperto proprio lì questa collana Burr Natale ed è bellissima quindi poi ho chiesto alla Rizzoli se avesse voglia di mandarmi gli altri libri della collana da recensire e me li ha mandati quindi poi ve li farò vedere vi faccio vedere meglio la cover, guardate i dettagli, cioè è proprio stupenda poi l'interno è così e all'inizio di ogni capitolo ci sono queste piccole illustrazioni questo volume ovviamente poi ne parleremo meglio nel wrap up, a me è piaciuto tantissimo e racconta proprio la vita di Babbo Natale a partire dalla sua infanzia, poi l'età adulta e infine la vecchiaia quindi stupendo l'altro libro che ho preso con i soldi della calza dei morti è questo qui la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl perché io in pratica di Roald Dahl ho 16 libri però tutti in inglese poi in italiano solo le streghe e Matilda quindi ci voleva anche questo che devo ancora leggere e questo qui invece è un ricordo di Firenze perché l'ho preso a una delle feltrinelli di Firenze ci sono sempre le solite illustrazioni su vendo, non vedo l'ora di leggerlo il film l'ho sempre amato quindi sono curiosissima di leggerlo restando in tema Firenze una delle persone che ho conosciuto lì perché noi in pratica siamo andati a Firenze per incontrare degli amici che Michele ha conosciuto online giocando a World of Warcraft una delle persone che ho conosciuto lì è una persona che ama leggere quindi io e Giordana siamo andate nella libreria Feltrinelli che dovrebbe essere la più grande di Firenze e mi ha regalato questo bellissimo volume io sono molto legata alla storia di Pinocchio perché mi ricorda uno dei pochi momenti belli della mia infanzia con mio padre perché me lo leggeva e lei quindi me lo ha regalato questa è un'edizione tra l'altro introvabile come vedete c'è anche il prezzo in lire c'è il famoso font dei tempi ed è proprio un'edizione scritta con il fiorentino cioè è stupenda e non vedo l'ora di rileggerlo in questa edizione e adesso arriviamo ai veri e propri regali di Natale il primo è questo adorabile volume che ho anche letto che mi ha regalato Claudia di Living True Books perché io e lei e le altre ragazze che vi lascio scritte di lato abbiamo organizzato il Secret Santa per cui ognuna di noi ha fatto il regalo a un'altra di noi ovviamente nessuno sapeva chi fosse il suo Secret Santa quindi poi l'abbiamo scoperto in una videochiamata ed è stato bellissimo questo qui è il volume di Nightmare Before Christmas ed è stupendo cioè io adoro già la cover è bellissima ma poi dentro ecco qui c'è il bigliettino che conserverò per sempre e poi dentro ci sono le illustrazioni che sono veramente stupende cioè guardate l'albero di Natale io l'adoro con le zucche è stato bellissimo leggerlo prima di Natale regalo della mia migliore amica invece animali fantastici e dove trovarli lo screenplay che io non avevo ancora devo dire che mi piace tantissimo la cover in edizione rigida veramente bello anche qui dentro c'è il bigliettino che vuole cadere e non pensavo che fosse anche illustrato tipo così quindi sono veramente rimasta colpita in positivo di solito a me ve lo dico gli screenplay non piacciono perché mi piace leggere i libri e basta però di quelli della Rowling sono curiosa del mondo di Harry Potter quindi devo leggerli quest'anno come vedete ho avuto tutti i regali librosi perché io e le altre persone con cui mi faccio i regali di Natale abbiamo deciso di fare delle wishlist in maniera tale da essere sicuri di regalarci quello che ci piace perché magari ho amiche che non leggono o che comunque non leggono tanto quanto me e che quindi non saprebbero cosa regalarmi in più ovviamente non sanno che libri ho e che libri non ho e dovrebbero chiedere ogni volta a Michele quindi a questo punto abbiamo deciso di fare le wishlist e basta una mia amica carissima amica dell'università mi ha regalato Grimorio cioè guardate quanto è bella la cover ovviamente è un altro libro dell'Abeditore questo qui parla di streghe e vi faccio vedere che anche questo qui è illustrato ed è stupendo cioè io adoro i libri dell'Abeditore proprio per questo stile molto dark che hanno poi sono tutti illustrati bello questo vorrei leggerlo a ottobre spero veramente di farcela due libri che mia madre ha regalato a me e Michele per Natale cioè in realtà lei come al solito ci ha dato i soldi perché non legge quindi non saprebbe cosa regalarci e noi abbiamo comprato questi due draghi streghe e i fantasmi di Natale ora ve li faccio vedere singolarmente le pagine ovviamente sono come al solito colorate questo qui è bellissimo perché è anche sbilluccicoso ma nella fotocamera non rende quello delle streghe di Natale c'è scritto che contiene brucia strega brucia striscia ombra il sabba delle mogli e non ci saranno più tenebre la stella azzurra e le streghe di Manhattan guardate che carino e poi qui è viola se non erro bellissimo e non mi ricordo se ci sono illustrazioni mi sa di sì vedo se riesco a trovarvene qualcuna ecco una sono riuscita a trovarla comunque ce ne sono poche però ecco tipo così e poi il grande libro dei fantasmi di Natale bellissima la cover questo fantasma che mi ricorda Marley con queste catene e allora qui è così l'illustrazione alla fine è uguale e anche questo non mi ricordo se ha illustrazioni ma mi sa di sì sì ecco tipo questa cosa c'è dentro sono tantissime storie tipo di alcuni autori sono Lovecraft c'è anche Doyle non so se mi sbaglio eh sì sì c'è anche Doyle e poi mi sa che io non conosco nessun altro almeno credo comunque mi incuriosiva tantissimo e quindi ho deciso di prenderlo ma come tutti gli altri draghi della mia collezione non so mai quando li leggerò probabilmente li leggerò un po' alla volta un po' all'anno non lo so vedremo e adesso arriviamo invece ai libri che mi ha regalato Michele a Natale questi sono se non ero sei quindi ne sono un pochino ci sono due libri dedicati al Grinch siccome ci sono tantissimi libri non vi faccio vedere quelli che ho regalato io a Michele perché sennò davvero non finiremmo più comunque ci sono due libri dedicati al Grinch questa è l'edizione in inglese guardate che carino cioè io mi sono innamorata ovviamente è uguale a quella in italiano per le illustrazioni però è in inglese è stupenda stupenda troppo bella io adoro l'edizione sotto non c'è niente di speciale però è stupenda questo qui invece è un libro per bambini perché è quello con i vari flap che si sollevano voi sapete io ho avuto un'infanzia triste quindi Michele ho deciso di regalarmelo e vi giuro io mi sono messa ad aprire tutte le cose proprio subito perché dovevo per forza cioè è fantastico è fantastico guardate piccola sindicilu no non è lì sindicilu è quella col fiocco vabbè non la trovo comunque è stupendo il rostacchino bellissimo cioè è stato stupendo davvero poi c'è il bambino che partì per il nord alla ricerca di Babbo Natale che purtroppo non sono riuscita a leggere quest'anno perché non ho fatto in tempo avendo altre cose da leggere ed è un libro dell'iperborea che io desideravo da tantissimo cioè le illustrazioni sono veramente stupende veramente veramente belle e poi secondo me sarà un libro dolcissimo quindi sicuramente lo leggerò l'anno prossimo nel periodo natalizio anche la cover è molto bella sapendo che volevo vedere il film su Netflix però dopo aver letto il libro Michele mi ha regalato un bambino chiamato Natale con la cover vecchia perché quella nuova con la copertina del film non mi piace ed è bellissimo anche questo guardate che bella anche la cover dietro anche questo avrei voluto leggerlo a Natale ma non ho fatto in tempo quindi viene rimandato all'anno prossimo anche qui ci sono le illustrazioni e anche questo secondo me sarà un libro di una dolcezza unica da leggere sono veramente super curiosa e non vedo l'ora che sia l'anno prossimo proprio per leggerlo anche c'è l'anno prossimo che sia Natale per leggerlo anche perché è il primo libro di Might Egg non so se si pronuncia così che leggerò e sono curiosa di scoprire questo autore poteva mancare un libro di Dickens in questi regali assolutamente no quindi Michele mi ha preso questa meravigliosa edizione di A Christmas Carol and Daughter Holiday's Treasure quindi ci sono in pratica tutte le storie di Natale tipo il canto di Natale il grillo del focolare scritte da Dickens adoro anche che ci sia questo lampioncino bellissimo e la cosa bella è che io a Michele ho regalato la stessa cosa ma in italiano della Feltrinelli bellissimo cioè proprio adoro se non erro non ci sono illustrazioni dentro però è comunque un'edizione che volevo chissà se riuscirò mai a leggerlo realmente in inglese anche perché credo che comunque non sia un inglese facile da leggere visto che comunque si parla dell'Ottocento però magari ci proverò in futuro l'ultimo libro che mi ha regalato Michele è Musicofilia di Sax mi aveva già regalato un altro libro di Sax così io ne ho tre se non erro e devo ancora leggerli però vi giuro che prima o poi accadrà io adoro le edizioni della Delphi perché sono molto flappi e sono molto comode e sinceramente non mi ricordo nemmeno di che cosa parli questo libro quindi non so che dirvi però come tutti i libri di Sax mi incuriosisce e infine arriviamo ai sei libri che mi hanno mandato le case editrici ci sono tre volumi della Alter Ego il primo è Racconti di Donne Sole e sono sempre queste edizioni piccole degli eletti questo mi incuriosiva parecchio e penso che lo leggerò a febbraio vediamo se ce la faccio poi Racconti della prima Fantascienza di Wells che sarà il mio no primo approccio a Wells no perché se non erro ho letto già qualcosa però gli ho letti quando ero piccola quindi sarà il mio primo approccio a Wells nell'età adulta e infine poteva mancare qualcosa di Natale no un Natale di tanto tempo fa e altri racconti natalizi della Montgomery e di questo trovate già la recensione il posto su Instagram insomma ve ne ho già parlato ma poi ve ne parlerò anche nel wrap up e infine ci sono i tre volumi di cui vi parlavo prima della Burra Natale della Rizzoli ora ve li faccio vedere singolarmente il primo è Mary Poppins che vorrei leggere a marzo perché io non ho mai letto la sua storia ho visto il cartone il film da piccola però non ho mai letto la sua storia quindi non so non so proprio come sia il libro illustrazione all'inizio e poi vi faccio vedere l'illustrazione che c'è sempre all'inizio dei vari capitoli poi c'è Buon Natale altri racconti dell'Alcott che ho già letto e anche di questo trovate già post e recensione troppo carino veramente ne parleremo ovviamente meglio nel wrap up però è davvero un modo per apprezzare il Natale lo spirito del Natale più vero e infine Pattini d'argento che vorrei leggere proprio a gennaio non so se ce la farò però uno degli obiettivi è leggerlo comunque in questo inverno e oddio mi sono spoilerato una cosa leggendo un titolo ed è così è bellissimo inizia con Ansel Gretel no vabbè adesso mi incuriosisce ancora di più bene bookidipendenti questo era il book haul di dicembre un book haul veramente enorme grazie mille per aver visto il video se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale ricordatevi di attivare la campanellina in maniera tale da restare sempre aggiornati fatemi sapere nei commenti qual è il libro più bello che avete ricevuto a Natale o in generale il regalo più bello che avete ricevuto a Natale e noi ci vediamo nel prossimo video ciao bookidipendenti a Natale a Natale Grazie a tutti.